Cloca abbellirà la tua camera da letto, l'ingresso, oppure potrà essere il pezzo forte del tuo salotto. I disegni realistici di ogni uccello e la cornice verde foresta si abbineranno perfettamente a ogni tipo di arredo. Lo stile e il design senza tempo lo rendono un oggetto intramontabile. I bambini lo adorano, adorano sentire i canti degli uccelli. È davvero bello per loro riconoscere il cinguettio dei vari uccelli sull'orologio. E quando siamo in mezzo alla natura, è divertente vedere dal vivo tutti gli uccelli che abbiamo sentito dall'orologio. Studi dimostrano che ascoltare suoni della natura può migliorare l'umore, ridurre lo stress e alleviare i dolori. Insomma, è un vero tocca sana per la salute fisica e mentale. Porta la natura in casa tua con un oggetto intramontabile che starà bene in ogni stanza della casa. Niente più orologi banali e rumorosi. Abbellisci la tua casa con un oggetto d'arredo che ti trasmetterà gioia con il suo canto. Regala alla tua famiglia Star Life Berson Clock. Devi solo chiamare il numero che vedi in sovraimpressione e potrai richiederlo al prezzo vantaggioso che vedi sullo schermo. Ma il vantaggio non finisce qui. Per un tempo limitato includeremo un secondo Star Life Berson Clock gratis per te o da regalare a una persona a te cara. E non è ancora tutto, perché includeremo gratis. Grazie a tutti.